E' bella a tutti ragazzi qui è GTA Pro in questo nuovo video Sono qui oggi ragazzi per annunciarvi la Monielobby che si terrà oggi pomeriggio e domani pomeriggio ragazzi Quindi una vera e propria mega Monielobby di due giorni, di due pomeriggi E quindi ragazzi per partecipare è veramente molto semplice, vi basterà semplicemente lasciare un mi piace al video per supportarmi Visto che ragazzi sto facendo una mega lobby di due giorni appunto prima dell'uscita del DLC E quindi ragazzi per partecipare a questa lobby è molto semplice, vi basterà semplicemente mandare un messaggio su Xbox a me Il mio gamertag è regalo soldi e io Foxound e CoreMods ragazzi vi daremo soldi in sessione Inoltre ragazzi la Monielobby sarà in diretta su Twitch Quindi ragazzi chiunque può appunto andare a vedere la live che lascerò in descrizione Quindi ragazzi mi raccomando andate a vederci in live, metteremo anche il microfono quindi ragazzi parleremo in live Quindi niente ragazzi se volete partecipare io ragazzi ve le cose ve le ho dette Comunque se in descrizione lascerò tutti i link e tutte le informazioni necessarie per partecipare La Monielobby ragazzi durerà ben 3 ore Quindi dalle ore 15 fino alle ore 18 Staremo ragazzi a darvi i soldi in sessione Per le 15 alle 18 saremo anche in live E poi ragazzi domani, domani che domenica Sarà nuovamente la Monielobby dalle ore 15 alle ore 18 Non so se saremo in live però ve lo dirò nei commenti Anche se domani saremo in live oppure no E quindi niente ragazzi spero che partecipate numerosi E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao